ciao a tutti amici di marina romea tennis e come avete visto oggi mi sono allenato con la pro kennex la pro kennex couture la racchetta di andreas seppi devo ringraziare franco che mi ha consigliato questo telaio veramente incredibile eccezionale offre una velocità di palla una spinta una facilità nell'uscita della palla veramente incredibile una presa delle rotazioni straordinarie grazie allo schema corde 16 per 19 ma quello che più sorprende è il comfort e la spinta il comfort grazie al sistema kinetic posizionato sia al manico della racchetta che alla testa racchetta nei punti cruciali quindi a ore 14 22 e 18 e 16 e questo garantisce assorbimento delle vibrazioni veramente solamente al momento dell'impatto e garantendo allo stesso momento ritorno di energia e questo lo confermo perché un'uscita di palla una velocità di palla una facilità di esecuzione come con questa racchetta dal profilo tradizionale non le avevo mai sentite prima veramente incredibile un telaio di grande spinta ma allo stesso tempo di presa della rotazione ora vediamo la prova in campo insieme vedrete come la palla mi scorre veramente veloce e vi garantisco che non sono più molto allenato quindi questa racchetta per me è una grandissima scoperta io che ero da anni abituato a racchette profilate quindi a racchette rigide che garantiscono uscita di palla e presa della rotazione ero restio comunque a ritornare a dei telai di forma tradizionale ma questo telaio non mi ha fatto pentire certamente di questa scelta provatelo andatelo a provare nei punti vendita autorizzati vi allegherò qui in descrizione la mappa dove potete trovare le racchette in prova ma allo stesso tempo vi indicherò anche il sito Prokennex vi invito a visitare il sito Prokennex e vedere e scoprire tutta la tecnologia veramente incredibile e fantastica che questa azienda garantisce sui propri telai la Prokennex è un'azienda veramente all'avanguardia italiana che investe tantissimo nella ricerca e punta molto a garantire comfort soprattutto anche a livello amatoriale una vasta gamma di racchette che vanno dal livello amatoriale all'agonismo come questo telaio che garantisce sia comfort ma veramente prestazioni da telaio veramente di alto livello provate visitate il sito trovate tutti i link qui in descrizione troverete nella gamma Prokennex sicuramente il telaio che fa per voi e alle vostre caratteristiche vi fa piacere ricevere anche un consiglio da me lo potete fare scrivendomi una mail quindi potete andare sul mio sito internet marinaromeatennis.it cercherò di indicarvi il telaio Prokennex più adatto alle vostre caratteristiche se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like e ad iscrivervi al mio canale e alla prossima recensione Prokennex ciao alla prossima